Ma siamo arrivati alla parte finale e guardiamo il codice che ovviamente per un progetto così complesso è il codice testuale scritto in Arduino, all'interno di Arduino IDE. Ecco il codice, siamo all'interno di Arduino IDE, eviterò ora di parlare proprio di tutte le funzioni che sono state create perché diventa troppo lungo, comunque il codice ovviamente lo trovate nella sezione risorse, quindi se lo volete poi scaricare per analizzarlo. Ci concentreremo soprattutto qui sulla pagina principale dove c'è il loop, che come sapete è la parte del programma che si ripete continuamente e che ovviamente ogni tanto in qualche rigo fa riferimento a una delle funzioni che sono state create ad hoc per questo programma. Ok, allora per chi ha già seguito altri webinar o altri video dove ho parlato di Arduino o ho visto insomma le mie informazioni dal vivo, saprà che tutta la prima parte del codice riguarda l'importazione di librerie, in questo caso solamente due, una per gestire i servomotori, l'altra per gestire il sensore a ultrasuoni. Questo insomma è una cosa che abbiamo già visto anche altre volte e poi c'è la dichiarazione di tutta una serie di variabili, variabili che riguardano i servomotori e il cicalino, variabili che riguardano i comportamenti eccetera eccetera. A differenza di altri codici che magari vi ho mostrato in passato qui ho usato molto le variabili di tipo byte invece che le variabili di tipo intere. Un po' per un motivo abbastanza diciamo abbastanza inutile perché volevo cercare di risparmiare memoria ma fortunatamente insomma la memoria è stata usata solo al 26% quindi potevo tranquillamente usare anche delle variabili intere invece che byte. Perché le variabili di byte prendono meno spazio in memoria ma in alcuni casi mi serviva proprio il byte come tipo di dato, il byte è composto da 8 bit e quindi può essere utile o per esprimere un numero che va da 0 a 127 oppure può essere utile perché essendo espresso in bit mi permette di fare operazioni con la numerazione binaria e quindi di passare delle informazioni proprio a livello di bit. per esempio come in che stato è il bit, il primo bit, in che stato è il secondo bit, in che stato è il quarto bit, i bit si leggono da destra a sinistra e quindi questo mi poteva essere utile lo vedremo più avanti per questo tante volte ho usato il tipo di variabile byte invece che intero. ok quindi qui ci sono tutte le nostre variabili poi come di consueto entriamo nel setup che è abbastanza semplice c'è l'apertura della porta seriale che ho usato semplicemente per durante la fase di programmazione per inviare alcuni messaggi che mi dicevano che servivano per il debug sulla porta seriale quindi questo è l'attaccia dei servomotori che abbiamo visto che c'è anche insomma nella robotica con eduino e basta. interessante ora per esempio è questa funzione qui motor control dove vedete che ci sono dei parametri questa è una funzione che ho creato io i parametri sono 1 1 0 e che cosa ho messo nel commento? ah per farlo partire diciamo in stop, in stop dal punto di vista diciamo formale perché poi subito entra in gioco un comportamento mentre se il comportamento è il comportamento space lover sapete l'avete già visto nel video che il robot si muove però di base dal punto di vista formale quando parte i motori dovrebbero essere in stop vediamo cosa significa questo questi parametri 1 1 0 rispetto vado all'interno della funzione motor control che ho creato io e vedo che 1 1 0 significa direzione del motore left di sinistra temporanea direzione del motore di destra temporaneo che è on off semplicemente quindi avendo messo 0 lui va in in off e quindi i motori non non partono ok e quindi infatti vediamo che il servo questo è interessante che come funzionano i servo motori a 360 gradi rispetto a quelli 0 180 la funzione per farli muovere è la stessa mai servo punto write e all'interno delle parentesi inseriamo l'angolo nei motori a 0 180 se metto 0 il motore assumerà andrà nella posizione angolo 0 se metto 90 andrà nella posizione angolo 90 in questo caso vedete che c'è una variabile start position che è questa qui start position uguale 89 perché i servo motori stanno fermi quando partono quando si mette la posizione 90 gradi via via che ci si distanzia da 90 gradi o girano con maggiore velocità in un senso oppure nell'altro voi vi chiederete perché allora hai scritto 89 invece che 90 è una compensazione software nel senso che ingrandisco un po nel senso che i motori durante il montaggio eccetera almeno questi che ho usato io possono perdere un po di calibrazione che è anche regolabile manualmente sul corpo del motore stesso se è possibile se riusciamo a raggiungere un punto dove c'è un foro con una vite altrimenti ho fatto una compensazione software semplicemente mi sono accorto che a 90 fermi non stavano giravano lentamente e un po giravano appena appena lentamente e ho cercato un altro punto di stop che era in 89 per entrambi ok quindi così funzionano i motori servo motori a 360 gradi 90 gradi è il punto di stop se scendo più mi allontano dai 90 gradi verso il basso più aumenta la velocità in un verso più mi allontano dai 90 gradi dall'altra parte stessa cosa più aumenta la velocità nell'altro verso ovviamente fino a un limite strutturale del robot ok non è che aumenta all'infinito la velocità quindi ritorniamo nella pagina principale rimettiamo lo zoom per bene un attimo eccoci quindi rivediamo nuovamente le variabili variabili per i sensori variabili per il servo motori e per il cicalino variabili che hanno a che fare con i comportamenti behavior poi entriamo nel setup ne abbiamo già parlato ed entriamo nel loop con che cosa parte il loop con queste tre funzioni dove di fatto faccio un po' di al di là di prendere il valore che arriva dai vari sensori cioè gli infrarossi il pulsante e quella ultrasuoni inizio a ragionare un po' sul sul filtraggio perché i dati in ingresso non sono mai pulitissimi quindi vanno un po' un po' filtrati e come vengono filtrati usando questa cosa qui ciclo generale di filtraccio di filtraggio a quattro cicli a quattro giri cioè semplicemente io prendo faccio prendo un campione di quello che arriva da un sensore prendo quattro campioni ok come facesse quattro volte il giro il programma se tutte quattro i campionamenti sono diciamo coerenti sono lo stesso allora io come di per esempio c'è un ostacolo sul sensore infrarossi numero uno se questa cosa mi viene confermata per quattro volte consecutive bene allora c'è un ostacolo altrimenti vuol dire un piccolo errore e lo filtriamo via ok quindi praticamente l'ostacolo viene rilevato usando appunto se viene rilevato per quattro cicli consecutivi del programma ok poi le cose si fanno un po più complicate qui c'è un clock quindi che misura il tempo in assoluto che ogni mille millisecondi quindi ogni secondo fa un click con il cicalino ora non lo sentivate nel video perché ho sovrapposto la musica e ogni cinque secondi fa un click leggermente con una durata leggermente diversa vedete una durata moltiplicata per tre che significa che viene cambiato viene aggiornato il comportamento qui c'è il condizionale if che mi dice che se premo il pulsante quindi se il button state è cambiato quindi quando viene premuto diventa zero ed è diverso dal precedente button state e c'è anche in gioco la questione del reinforcement learning che ora commentarla rigo per rigo è abbastanza complesso però per dire questa è la condizione che praticamente dice se premi il pulsante che succede intanto c'è una piccola melodia di conferma che viene suonata dal cicalino e se il comportamento che è stato scelto casualmente è per esempio il comportamento cacciatore hunter allora incrementami la probabilità di questo comportamento e ok se invece è il comportamento preda incrementami la probabilità di questo ok e stessa cosa qua ok vedete che c'è anche le probabilità dell'oblio ora è un pochino complesso da da spiegarvi però questo per dire che ogni volta che si contribuisce al si contribuisce diciamo alla premendo il pulsante viene aumentato la probabilità che quel che quel comportamento venga venga fuori questo il button state button state è una cosa che serve per l'antirimbalzo del pulsante è uno dei tutorial più più classici che si fanno sempre con arduino trovo tant'è che lo trovate anche negli esempi dello stesso arduino ide vedete ogni cinque secondi robot sceglie un nuovo behavior un nuovo comportamento quindi quando il clock supera i cinque secondi al di là che poi si riazzera che cosa fa verifica che la soglia di attivazione dell'oblio che in questo caso stava messo uguale a 2 come soglia verifica se questa soglia è stata superata se è stata superata che cosa significa vuol dire che un comportamento magari che era stato rinforzato che per due volte viene fuori e non viene ulteriormente rinforzato diciamo attiva un una riduzione della sua probabilità ok vedete probabilità meno meno vuol dire che gli toglie un'unità a quella a quella probabilità quindi qui si vede in azione appunto il meccanismo dell'oblio che scatta da solo semplicemente perché l'utente non rinforza ulteriormente il comportamento il comportamento prevalente questa è la parte dove viene tirato il dado dice è dado tirato il dado che sceglie tra tre comportamenti quindi se esce se esce questo qui il primo viene fuori hunter altrimenti se esce il secondo numero viene fuori preda e se viene fuori il terzo numero viene fuori viene fuori space lover ok queste sono tutte poi istruzioni che hanno a che fare vedete con la chiamata in causa di pezzi di codice che sono poi dentro dentro le funzioni e il tutto finisce ovviamente dopo è stato scelto il comportamento sono state in qualche modo memorizzate i nuovi valori delle variabili come le probabilità la probabilità che esca fuori un comportamento oppure la probabilità dell'oblio eccetera 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 alla fine di tutto cosa c'è c'è il movimento del motore ovviamente infatti c'è la funzione motor control che quella che abbiamo visto prima che dove proprio vado a leggere la variabile motor state che è una variabile di tipo byte la vado proprio a leggere a livello di bit ok come di quindi se il bit in questo caso è il bit 1 il bit 0 e il bit 2 ok e poi alla fine di tutto c'è il classico di lei che come in quasi tutti i tutorial se guardate l'esempio famoso che c'è nella libreria interna arduino che se non sbaglio dov'è nel digital no nell'analog ecco qua nello smoothing questo un esempio che di base viene un po usato per spiegare un po il filtraggio dei dati il delay c'è sempre alla fine di lei un po per la stabilità ok che a volte si usa anche il filtraggio temporale cioè si fa girare il codice un pochino più lentamente per evitare che ecceda nel catturare magari dei segnali velocissimi che però sono semplicemente disturbo che è rumore di disturbo che arriva dai sensori ok